Oggi parliamo di questa cosa qui, cioè il fatto che come occidente riempiamo altri paesi della nostra spazzatura e l'Unione Europea vorrebbe metterci una pezza. Parliamo poi di quest'altra cosa, cioè cos'è successo dopo che un carabiniere decise fosse una buona idea a fotografare una persona in stato di fermo con un cappuccio in testa, vi ricordate? E condividere l'immagine in chat con amici e colleghi. Ma prima di tutto parliamo di X-Factor, perché ormai qua su Breaking Italy ci passa tutto, evidentemente. Anche i X-Factor. Per quanto io non sia esattamente il più grande fan dello show, persino a me era arrivata la grande attesa dietro al ritorno in qualità di giudice di Morgan, che do un po' per scontato sappiate chi sia, e che è un po' divenuto negli ultimi tempi più noto per le sue sfuriate a modi di fare un po' sgarbiani che per le sue qualità professionali. Nel senso che se le sue doti artistiche lo hanno portato alla fama, ciò che lo fa costantemente finire al centro di discussioni persino qui su Breaking Italy sono le polemiche, e ormai questa è divenuta una profezia che si autoavvera. Le persone si chiedono cosa Morgan farà o dirà di sconveniente, lui in qualche modo sente di dover riempire quel vestito che si è cucito addosso, dice cose sconvenienti, e si va avanti così, in un ciclo che quindi altro non può fare che spostare l'attenzione delle persone da quello che sa fare a quanto offensive sono le cose che dice. È normale. Bene, Morgan è stato ufficialmente allontanato dalla giuria di X Factor, che è una cosa che accade in corso, probabilmente non era mai accaduta, per atteggiamenti considerati poco rispettosi nei confronti degli altri giudici, del pubblico e dei cantanti. Ultima un'uscita riguardosa nei confronti di Fedez e della sua salute mentale quando gli ha detto che questo sarebbe stato troppo depresso per fargli da psicologo. Una roba così, una di quelle frasi che è così. Quindi, comunicazione ufficiale su Instagram dell'allontanamento di Morgan, con tanto di grafichetta. Comunicazione ufficiosa di Morgan sempre su Instagram che commenta l'allontanamento senza grafichetta, e in generale pubblico diviso su quanto appropriato sia stato questo allontanamento, sulle capacità tecniche di Morgan e sul fatto che questo faccia un po' la vittima, schiacciata dai poteri forti la voce della verità. Ora, premesso che il vittimismo il richiamo ai poteri forti è veramente una cosa vista e stravista, facilissima da fare in un mondo polarizzato come quello del web, e infatti lo vediamo succedere continuamente. Credo Russell Brand sia stato l'ultimo esempio che abbiamo citato in questa sede, dopo le accuse di molestie che gli sono state rivolte, ma non importa. Un'altra cosa che abbiamo detto in questa sede è quanto difficile sia raggiungere il famoso paese reale su certe questioni. Il caso di Julia Cecchettin ha fatto riemergere questo problema. Cioè, ci possiamo parlare addosso quanto vogliamo, ma se una certa cultura non esce dagli ambienti più pettinati per andare ovunque, continueremo a parlarci addosso, a non imprimere alcun cambiamento sociale. Breaking Italy non ha questo potere, ad esempio. Ce l'ha in maniera estremamente limitata. Ma X Factor sì, ma X Factor ce l'ha quel potere. X Factor è un'altra cosa. Ecco, se c'è una storia che tutto questo penso possa insegnarci è che le azioni hanno delle conseguenze, ma anche che queste azioni possono arrivare non necessariamente dall'ignoranza, ma anche dalla cultura. Morgan è un uomo colto, riconosciuto nel suo settore come una persona preparata, capace e brillante, ma che utilizza queste sue capacità, questo suo privilegio, come uno scudo dietro al quale ripararsi dopo aver spesso detto cose inappropriate, messi in scena comportamenti maleducati, fuori luogo, da bullo quasi. Perché lui può. Perché ha ottenuto questo e ha ottenuto quel risultato. Ed è un atteggiamento molto più comune nel nostro paese di quanto siamo disposti ad ammettere, solo portato all'eccesso, ma figlio di quel famoso lei non sa chi sono io. Che è un pessimo atteggiamento ed è una di quelle cose che in effetti come società dovremmo combattere. Se in questo paese infatti, malandato com'è, si ritiene necessario coltivarli con gli opinion leader, innaffiarle, farle crescere, queste figure che hanno invece la capacità di mettersi in discussione e proporre dei modelli diversi, non dico di certo che gli altri debbano essere censurati, quelli non consoni a questo ruolo. Infatti Morgan continuerà a fare Morgan a destra e a sinistra e la gente ad inseguirlo come una scimmietta e chiedergli di ballare, così come si fa con sgarbi. Ma è almeno necessario mandare questo segnale, cioè che non tutto ciò che ti passa per la testa sia un colpo di genio da condividere con il mondo, che l'atteggiamento da prepotente non è tollerato in ambienti normali e soprattutto che avere un talento, un'influenza e una capacità, non è ragione per trattare tutti gli altri da idioti, ma anzi dovrebbe essere motivo che spinge all'autocontrollo e alla gestione consapevole di quel potere. E io lo so che dico sempre le stesse cose, ma non è colpa mia, io sono fermo. E il problema è che fermo anche il paese, cioè ci diciamo sempre le stesse cose perché questo paese è sempre fermo lì, non è che ci sia un avanzamento. È sempre fermo lì. Responsabilità. Piccola pausa in cui voglio parlare a quelli tra voi che stanno pensando di mettersi in proprio e hanno bisogno di aprire una partita IVA o a chi magari lo ha già fatto e ora soffre la burocrazia che c'è dietro, perché lo sponsor di oggi, Fiscozen, è pensato esattamente per voi. Fiscozen è infatti un servizio online in cui potete avere accesso alla professionalità di un commercialista che vi seguirà passo passo sia che la partita IVA la vogliate aprire, sia che vogliate essere guidati nella sua gestione, rispondendo quindi a tutti i vostri dubbi, quali siano i costi, le modalità migliori per voi, cosa cambi tra regime forfettario e semplificato, qualsiasi cosa. Peraltro importante, senza un limite di tempo, quindi senza l'ansia che finiscano i minuti che avete a disposizione. No. E tramite la dashboard potete gestire tutte le incombenze in maniera immediata, quindi emettere fatture anche elettroniche, avere una previsione sulle tasse, verificare le scadenze, tutte quelle cose interessanti che fanno parte della vita di una persona che ha la partita IVA. Ovviamente non io, non io che sono dipendente pubblico. Non ho questi problemi. Insomma, credetemi quando vi dico che so bene cosa significhi tutto questo. Protocolli, burocrazia, Fiscozen è un servizio molto utile che vi leva dalle spalle una buona porzione di quel peso, che è ancora più gravoso se state appena iniziando. Ma non voglio spaventarvi, quindi link in descrizione con cui potete prenotare senza impegno una consulenza e se passate tramite me avrete anche uno sconto di 50 euro sul primo anno di abbonamento, che male non fa. Abbonamento in cui, attenzione, sono inclusi sia l'apertura della partita IVA che la dichiarazione dei redditi, che diventa quindi un'offerta molto molto vantaggiosa. Testate il servizio, mettetela alla prova, fatemi sapere come va. Oppure, oppure, sentite questa, possiamo scappare. Basta lavoro, basta tutto, diventiamo ricchi rapinando una banca e andiamo in un paese lontano. So che è un'idea, però, voi provate Fiscozen, però teniamo questo pensiero, un retropensiero. Molti di voi si ricorderanno come quattro anni fa, a fine luglio del 2019, venne ucciso a Roma il carabiniere Mario Cercillo Rega. Fu una storia enorme, se ne parlò per mesi. E come colpevoli vennero indicati due ragazzi statunitensi, Gabriel Hjort e Finnegan Helder. Hjort, nello specifico, divenne subito particolarmente noto all'opinione pubblica a causa di questa foto qui, che lo ritrae in caserma dopo l'arresto, ammanettato e bendato, mentre sta seduto a Capochino. Foto a causa della quale ieri il Tribunale di Roma ha condannato a un anno due mesi di carcere, con pena sospesa, il carabiniere Silvio Pellegrini, che aveva prima scattato la foto e poi l'aveva fatta circolare su WhatsApp con l'accusa di aver arrecato a Hjort un danno ingiusto. Sentenza di cui dobbiamo assolutamente parlare, perché è una di quelle cose che entra nel gigantesco solco, nell'enorme canyon italiano, che è quello del, eh, però gli agenti non possono fare niente, siamo in Italia e quindi nemmeno una persona che ha ucciso qualcuno può essere umiliata, immagino, non lo so. Allora, pronti? In realtà la storia è orribile, sulla vicenda che ha portato all'omicidio di Rega non mi soffermo neanche troppo, se ne è scritto e detto molto, ma i fatti che ci servono per dare contesto alla vicenda sono questi. Hjort ed Helder erano in vacanza a Roma e quella sera volevano procurarsi della cocaina. Per farlo si avvalsero di un intermediario che li portò da uno spacciatore, che però poi diede loro la sostanza sbagliata, cioè dell'attacchipirina, scambio dopo il quale avvenne un intervento dei carabinieri, che bloccarono lo spacciatore mentre gli altri fuggivano. Durante la fuga, però, uno dei ragazzi portò via lo zaino dell'intermediario, zaino che conteneva anche il suo cellulare, e quando l'uomo chiamò il cellulare per averlo indietro si trovò davanti a un rischiatto, ridare la somma già pagata per la finta droga, 100 euro, consegnare la vera droga promessa e poi riavere in cambio lo zaino con il telefono dentro. L'uomo però, piuttosto che a consentire, chiamò i carabinieri e questi fecero il loro lavoro, cioè Rega insieme a un collega si diressero all'appuntamento organizzato dall'intermediario che i ragazzi, e gli agenti, che erano in abiti civili, si identificarono e quando i due provarono a scappare, tentarono di bloccarli, con l'utazione durante la quale Helder accolterò più volte Rega, uccidendolo. Ora, il filone di questa vicenda che coinvolge i due ragazzi è piuttosto lungo, vennero condannati in primo grado all'ergasto, sia Helder che Hjort, in quanto ritenuti corresponsabili, con pena ridotta in appello e poi annullata in cassazione lo scorso marzo, con un nuovo processo che dovrà ora rivalutare alcuni dei reati. Ma la parte di questa vicenda che ci interessa in questo caso è un'altra, ed è quella che coinvolge Hjort subito dopo il suo arresto. Il ragazzo venne infatti portato in caserma e interrogato, e sappiamo con certezza che in quell'occasione, oltre a essere ammanetato, venne anche bendato, mentre gli agenti gli facevano le domande, cosa che emerse non solo grazie alla famosa foto di cui parlavamo prima, ma anche da un frammento di video girato in quelle stesse circostanze, e consegnato poi in maniera anonima alla stampa dopo che la vicenda del bendaggio era divenuta di dominio pubblico. Il video in buona sostanza mostra come Hjort sia stato effettivamente vittima di una pratica, quella di bendare gli occhi in quel modo, che numerose associazioni, compreso il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, considerano quantomeno un comportamento degradante per la persona, se non anche, in certi casi, direttamente tortura vera e propria, ad esempio quando è associato ad altre pratiche. Per questo motivo vennero quindi indagati due agenti coinvolti, Silvio Pellegrini, che fu quello che scattò la foto e la diffuse sui gruppi WhatsApp, e Fabio Manganaro, che invece bendò fisicamente l'uomo. I due erano accusati a vario titolo di abuso di autorità nel caso di Manganaro, di abuso d'ufficio e anche violazione del segreto investigativo nel caso di Pellegrini, in quanto aveva diffuso le immagini e momenti dell'interrogatorio che evidentemente non dovevano diventare di dominio pubblico, con l'aggravante peraltro che la diffusione di quelle immagini aveva avuto anche il doppio effetto di cementare nell'opinione pubblica la colpevolezza di Hjort, alimentando in maniera impropria le accuse verso di lui. Perché il punto è un po' qui e la sentenza ce lo dice, lo vedremo. Cioè non è che una persona che ha ucciso qualcuno perde tutti gli altri diritti, è il diritto di un individuo rimane tale a prescindere dalle cose che ha fatto, che è una roba che noi fatichiamo a comprendere. Cioè che è comprensibile che gli agenti in quel momento fossero turbati, diciamo, dal fatto che il loro collega sia stato aggredito e poi è morto di fatto, quindi lo hanno visto pugnalato da uno di questi, è comprensibile che si arrabbino meno comprensibile e intendo assolutamente non accettabile il fatto che poi lo bendino, lo trattino male, lo umilino e addirittura condividano quest'umiliazione con altri loro colleghi, con altre persone che in quel momento avrebbero apprezzato quel tipo di gesto. È normale, è normale perché diventa un noi contro di loro, è fisiologico che questa cosa possa accadere, ma non deve accadere e lì entra la professionalità degli agenti. E di nuovo, una persona anche condannata a due ergastoli rimane comunque una persona che ha dei diritti e quei diritti vanno rispettati, non è che decadono per la gravità delle cose che ha fatto. La decisione del Tribunale di Roma però, a conclusione del primo grado di giudizio, è stata, come dicevamo, prima la condanna a un anno e due mesi per Pellegrini, per quanto con pena sospesa, mentre Manganaro era già stato condannato lo scorso febbraio a due mesi sempre con pena sospesa. E a pesare sulla decisione è stata la valutazione da parte del giudice che non fosse necessario in alcun modo, ai fini dell'investigazione, fare divulgare quelle foto. A maggior ragione perché poi i carabinieri, nei cui gruppi la foto è stata condivisa, non stavano tutti partecipando al caso ed era evidente come ci fosse una partecipazione emotiva al gesto. Nel senso che, per capirci, la condivisione è stata fatta così, per goliardia diciamo. La sentenza, non è che sto facendo ironia io, la sentenza non dice goliardia, però il punto è quello. La corte stessa si accorge che quella foto è probabilmente condivisa non per ragioni tecniche. Ecco, il punto è questo. Al netto che parliamo di un primo grado di giudizio, a cui farà seguito un appello e da lì si vedrà, si tratta comunque di una sentenza molto importante, a cui ci tengo a dare risalto, perché a prescindere dalla colpevolezza o meno di Hort evidenzia ancora una volta quanto sia comune in un certo tipo di ambiente l'abuso di potere, soprattutto in quei contesti che sono proni a un atteggiamento punitivo verso i sospetti, a maggior ragione se sono responsabili della morte di un collega, a sottolineare, se è penale, che questo tipo di atteggiamento non vada bene, non sia ok che le forze dell'ordine non siano al di sopra della legge ed è quindi un passo verso la giusta direzione. Fatemi sapere cosa ne pensate, so che non tutti sarete d'accordo, però per avere una polizia efficace, efficiente, non c'è bisogno che poi si comportino in questo modo. Non è neanche funzionale al loro ruolo, non è che stiamo dicendo ti togliamo degli strumenti per far bene il tuo lavoro. Gli strumenti sono altri, non è quella cosa lì, non è quella roba lì. Grande rispetto per chi fa questo lavoro, però è un lavoro che si può fare bene e che si può fare male. Come tutto, immagino. C'è un termine che viene spesso utilizzato per definire quel fenomeno con cui i paesi più sviluppati, spesso occidentali, ma non solo, trasferiscono in stati tendenzialmente più poveri e in via di sviluppo i loro rifiuti, perché vengano processati, tra molte virgolette. Ed è il cosiddetto waste colonialism, il colonialismo dei rifiuti appunto, che è particolarmente evidente nell'industria dello smaltimento degli scati che provengono dal fast fashion. Ne parlavamo tempo addietro, ad esempio in riferimento a SHEIN. E la notizia è che la scorsa settimana il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sul testo di una legge che mira a contrastare questo fenomeno. Come sempre in questi casi, parliamo di un accordo preliminare e la direttiva dovrà essere formalmente approvata sia dal Parlamento che dal Consiglio prima che entri in vigore. Ma vale comunque la pena dare un'occhiata ai punti fondamentali, perché sono molto interessanti. Il fulcro dell'accordo dovrebbe prevedere che d'ora in poi vengano permesse esportazioni di rifiuti europei, con particolare attenzione a quelli plastici, verso paesi fuori dall'Ocse, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, solo e soltanto a fronte di un consenso di quegli stessi stati e della dimostrazione di poter gestire i rifiuti nel rispetto dell'ambiente e delle leggi internazionali sulla tutela dei lavoratori. Allo stesso tempo, le esportazioni verso paesi che invece sono membri Ocse saranno soggetti a controlli ancora più stringenti, operando attivamente per contrastare le esportazioni legali. E la cosa veramente interessante è che le nuove norme imporranno alla Commissione di creare un vero e proprio registro, aggiornato ogni due anni a quanto pare, che contenga tutti quei paesi non-Ocse, i cui pianti di gestione siano stati valutati nella loro funzionalità da parte di soggetti indipendenti, e che potrebbe essere utilizzato per scremare quanti o quali paesi possono concretamente essere una destinazione realistica per i rifiuti. Perché è un attimo che un paese dica no, 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 ma noi siamo assolutamente a norma, e con assolutamente a norma significa facciamo un buco e infiliamo tutti i rifiuti, sperando che poi raggiungano il centro del pianeta e si dissolvano nel magma. Quei paesi che infatti volessero comunque importare quei rifiuti plastici, perché, come dicevamo prima, è una scelta prima di tutto volontaria, dovrebbero fare richiesta non prima di cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento, e sempre a fronte del rispetto delle norme in materia della gestione dei rifiuti, e l'Unione Europea si impegna a fasi garante del rispetto interno delle norme in merito, sia tramite sanzioni, che è un grande classico, sia istituendo meccanismi di cooperazione pensati per fare in modo che gli stati membri collaborino, scambiandosi buone pratiche e informazioni. Fate conto che sono diversi anni che si parla del fenomeno delle esportazioni eccessive e spesso abusive di rifiuti verso paesi in via di sviluppo, e che si cerca a livello globale di porre un freno alla creazione di quelle che poi diventano gigantesche discariche di rifiuti plastici, che a un certo punto vengono o bruciate, immettendo nell'atmosfera una quantità enormi sia di inquinanti sia di CO2, oppure abbandonati, e che lentamente si disgregano nell'ambiente, inserendo nella catena alimentare quantità elevatissime di microplastiche. Per capirci, queste sono alcune delle immagini di vere e proprie scogliere di rifiuti in cui il Ghana sta venendo sommerso, spesso proprio a ridosso del mare, principalmente in questo caso per colpa del fast fashion, ma è un discorso applicabile a molte altre tipologie di scarti e di industrie. Ed è evidente che questa non sia una condizione che potrà essere gestibile ancora a lungo, perché poi il discorso è sempre quello, no? Il pianeta è uno, ti puoi anche occupare degli altri perché vuoi bene agli altri e sei una persona meravigliosa, ma anche se così non fosse, a un certo punto il problema diventa tuo, perché ad esempio il problema delle microplastiche ce l'abbiamo tutti. Chiariamoci, l'iniziativa da parte europea non sarà certo risolutiva in tal senso, anche perché spesso c'è tutta una filiera di persone con pochi scrupoli e molti interessi, da una parte nel voler soddisfare dei rifiuti senza problemi, e qui ovviamente ci sono gli stati europei, le nazioni, le regioni europee, ma dall'altra quello dei rifiuti è sempre stato un ricco business, sia per i leader di paesi in via di sviluppo, sia per la criminalità organizzata, lo sappiamo benissimo. In questo senso l'Unione Europea è sì un'entità forte, ma forse non forte abbastanza da cambiare dinamiche mondiali, al massimo da attenuarle il suo lato, che comunque le fa onore, visto che è un problema che noi stiamo sostanzialmente scaricando sugli altri, non è che il Belgio stia affondando nell'immondizia, al massimo un po' Parigi. Quindi è una questione di cui essere fieri in Unione Europea, e credo sia importante stolineare quando eventi come questo emergono, anche un po' per dargli un senso a questa Europa, oltre proclami e problematiche varie. E questo era tutto per oggi, grazie per aver guardato, mi pento e mi dolgo di quello che ho detto su Parigi, mi dissocio dalle mie parole, ero giovane, ero giovane quando ho fatto quella battuta e mi pento, mi pento fortissimo. Per il resto, grazie mille per essere arrivati sino a qui, vi ricordo breakingitaly.club se voleste darci una mano, supportare il nostro lavoro, e mi raccomando, fisco zen, dateci un occhio. Link in descrizione, e ci vediamo domani.